Salve a tutti, benvenuti nella seconda parte dei video illustrativi e vi farò vedere come funziona il pannello multiple, come si deve compilare nella maniera perfetta. Passiamo subito alla verifica. Come vedete il pannello multiple, nella parte in alto voi vedete subito la modalità di gioco, che sono due, conservativo ed aggressivo. Consiglio a tutti di utilizzare per il momento il conservativo, perché si ha un'esposizione, quindi un rischio inferiore, è vero che si guadagna meno, ma per iniziare dovete andare sul conservativo, perché siete più tutelati e avete un'esposizione inferiore. Lo stake è lo stake che dovete inserire per fare il vostro sistema di multiple sul nostro bookmaker. Anche qui per iniziare vi consiglio di utilizzare i 5 centesimi. E' chiaro che guadagnate in riferimento ai 6,40 di ogni multiple che andate a fare, di ogni sistema che andate a fare dei 7 doppi. Quando poi siete più bravi e soprattutto avete anche la possibilità di avere un conto maggiore, passerete ai 10, 20, 30, 50 centesimi. Alcuni nostri clienti stanno già utilizzando sistemi da 5 euro, quindi però mi raccomando andate con calma e utilizzate innanzitutto degli stake di 5 centesimi per iniziare e poi mano a mano passato, passate ad oltre. Andiamo sotto, quindi voi dovete fare sul bookmaker contemporaneamente due multiple, la multiple 1 e la multiple 3 più 4. Come ho detto, multiple 1 e più 2 perché in questa multiple si fa anche, tra virgolette, la multiple per la progressione nascosta. Però le multiple da fare sono due, la prima multiple e la seconda multiple. Mi raccomando, voi dovete andare inserire, lasciare i nominativi qui sopra, partita 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché se voi cancellate il sistema poi non vi dà più 7 doppie, ma ve ne dà di meno. Quindi mi raccomando, se volete mettere il nome della squadra fatelo, altrimenti non serve, lasciate però sempre dentro partita 1, partita 2 e via dicendo. Dovete trovarvi sempre doppie in gioco 7 colonne del sistema 128, è fondamentale. Cosa si deve fare? Si deve andare sul bookmaker, e poi lo vediamo, e andare a compilare il sistema di 7 doppie. Le prime 6 partite, le prime 6 partite, badate bene, possono essere scelte a caso, a caso, noi consigliamo di utilizzare quote uguali. Esempio, le quote migliori sono 1,85 e 1,85, addirittura se le trovate 1,82 e 1,82. Perché utilizzare quote tutte uguali? Perché se voi utilizzate le quote tutte uguali, quindi non serve che voi dobbiate aspettare la fine delle partite, perché essendo quote tutte uguali, sia che vinca la prima che vinca questa, per voi non cambia assolutamente nulla. Quindi, se voi scegliete quote uguali, potete la sera stessa fare in automatico la copertura sulla piattaforma di betting exchange, e addirittura voi potreste, diciamo per assurdo, andare ad avere la partita di copertura a mezzogiorno di domenica, e le altre partite, queste, che si giochino alle 6 di sera. Solamente se avete le quote uguali. Se poi voi volete trovare quote più basse, 1,81 e 1,83 e avere un vantaggio, però dovete aspettare la fine della partita, che ci sarà almeno 3 ore tra quando inizia l'ultima partita di queste e la partita da coprirvi e poi dovete andare a inserire vinta, persa, vinta, persa, perché altrimenti il calcolatore vi darebbe dei valori sbagliati e voi non andate a recuperare niente. Mi raccomando, consiglio, utilizzate quote tutte uguali, 1,85, così la vita vostra è molto più semplice e la sera stessa potete fare tutte le coperture. Quindi, cosa andate a fare? Nelle prime 6 dovete lasciare, mettere quello con gli asterischi, ne abbiamo lasciati solamente, diciamo, per ricordarvi cosa state facendo. Quindi mettete i segni, quelli con l'asterisco e basta, nelle prime 6, scegliete le partite come volete a caso, noi suggeriamo per esempio i calci d'angolo, i corner per esempio, perché si trovano a quote tutte uguali. Il nostro bookmaker in genere le mette la sera prima, quindi la sera prima, il giorno prima, trovate le partite dei calci d'angolo del giorno dopo. Oppure potete andare nel basket, nel campionato per esempio NBA o quello che volete, italiano, Eurolega, oppure in giro per il mondo, andate a trovare degli under over e trovate queste bellissime quote, tutte uguali e per voi sono perfette. Mi raccomando, non andate a usare su mercati tipo tennis le prime 6, perché se la partita non si gioca o la tolgo potete avere delle problematiche. Se la partita venisse cancellata o annullata, voi semplicemente dovete mettere la quota 1, non andate a recuperare completamente il tutto, però ripeto, una volta non succede niente. Quindi la sera stessa voi cosa dovete fare? Dovete compilare nello stesso momento le prime 6, come ho detto, e scegliere la partita la settima che dovete inserire subito nella schedina da coprirvi. Quello è il mercato, noi daremo dei pronostici nel sito, oppure li potete fare voi. Potete fare i BTS sì, BTS no, under 2,5, over, potete andarvi a giocare, molto interessante, per esempio l'1 o il 2 della squadra che gioca in trasferta, l'importante è che siano quote da 1,60 in 1,60, 1,50, diciamo da 1,50 a 2,10, 2,20. Il primo step potete usare anche quote più basse perché non va a incidere molto, addirittura sul book potrete scegliere 1,50, 1,60, 1,70 sul book come prima quota. Negli step successivi consiglio di spostarvi su quote 1,80, 1,90 perché la responsabilità così vi è più bassa. Una volta che voi avete inserito le quote tutte 1,85, 1,85 e quella finale per esempio questa 1,82, 1,96, il nostro calcolatore qua vi darà warning rating. Se è ok potete andare avanti, se avete scelto delle quote troppo basse o troppo alte il sistema vi da un warning e vi dice dovete fermarvi e cambiare le quote. Mi raccomando questo passaggio perché altrimenti avreste un problema. Come vedete vi da le colonne del sistema, le doppie in gioco, qual è la spesa del sistema e vi da la vostra vincita massima. È importante voi come potete vedere che la spesa del vostro sistema è sempre superiore alla vincita massima che avete. In questo modo come abbiamo detto voi avete la perdita sul bookmaker, il bookmaker vi dà il cashback o il bonus, il sistema va avanti e voi andate a recuperare con il calcolatore la somma che vi deve dare poi il bookmaker. Quindi il nostro sistema regge in questo modo. Importantissimo, importantissimo, dovete vedere che sul nostro bookmaker non dovete avere il bonus multipla. Se avete il bonus multipla mandateci subito un'email a chiocciola a info chiocciolabettingechange.net perché lo dobbiamo togliere. Se avete il bonus della multipla così come altri parametri il vostro sistema non funziona. Il calcolatore vi dà dei valori completamente errati. Nello stesso modo dovete andare a compilare la multipla 2. Adesso se voi avete fatto la multipla 1, entrate supponiamo pesanti o tante persone fanno le stesse cose, il bookmaker vi potrebbe andare sotto a cambiare la quota. Supponiamo della partita 4. Quindi voi cosa fate? Mettete per esempio 1,82, questa va la portata 1,81 e il sistema vi va a correggere il win, il recupero che voi non vedete qua ma lo vedete nelle progressioni. Cos'è importante se questa è cambiata? Alla 4 sopra voi dovete andare a mettere, se ha perso, se ha vinto, andate a mettere ha vinto e il sistema ve lo corregge dal punto di vista sotto. L'abbiamo messo solamente sopra perché consigliamo a tutti, anzi diciamo obblighiamo, di fare le stesse multiple. Perché? Perché tanto le prime sei non me ne fregano nulla. Una volta che le avete scelte non dovete spendere tempo a ricercare le stesse cose. Quindi l'operazione diventa ancora molto più semplice e immediata. Quindi mi raccomando scegliete le prime sei tutte uguali, calci d'angolo sarebbe la soluzione migliore e poi dopo scegliete l'ultima partita quella che dovete coprirvi. Faremo delle strategie di Remo, potete scegliere o pronostici di partite completamente diverse oppure abbiamo suggerito delle strategie, per esempio fare la stessa partita con Over 2-5 per esempio e BTS NO. E lì si perde solamente, si ha un doppio win quando si ha un 3-0, 4-0, 6-0. Si perde solamente con 1-1. Però ripeto sarebbe meglio che voi abbiate dei vostri pronostici così potete prendere tutti e due e fare i due win. Ma questo, ripeto, sta a voi. Poi faremo tutta una serie di strategie e imparerete meglio a utilizzare il nostro sistema. Per quanto riguarda quindi la compilazione del pannello, una volta ripeto che avete compilato il pannello, il recupero ve lo trovate sulla progressione 1-2 e 3-4 sotto. Non l'abbiamo messo qua perché è stupido dovere di copiare tutto quanto, il sistema già ve lo porta in automatico, il recupero win e recupero lose e il giocato ve lo riporta già di qua, che sono i valori, ripeto, fondamentali, fondamentali per far sì che il calcolatore funzioni. Quindi avete capito quindi come funziona e come si compila il sistema delle multiple e adesso passiamo a vedere al prossimo video come si compila la schedina del nostro bookmaker.